Io non ce la faccio più, non posso continuare a mentire. Cosa vuoi dire? Io provo sentimenti per altri. Per altri? E anche per altre. Sei bisex? No, no. Io sono attratto dai panini al formaggio. Cosa? Dalle focaccine dell'esse lunga. Ma... E da tutto ciò che è ipercalorico. Ma quindi tu... Sì. Sono cibo sessuale. Amore, oggi conoscerai i miei. Non sei la settima cielo? Veramente non so se me la sento. Roberta, ma basta farti queste parole. Guarda che a me sono delle persone molto tranquille. Sì, però... E sono anche molto aperti mentalmente. Ok, ma c'è una cosa che... Puoi parlare del tuo passato con la massima serenità. Ecco, io non... Cosa? C'è una cosa che non ti ho detto. Dimmi. Prima... Ero Roberto. Come Roberto? La mazza più lunga del deserto. Jacopo. Jacopo! Addio, 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 amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Amore, noi due dobbiamo parlare. Dimmi. Io ti amo da morire, ma... Ma... Ma che cosa? Noi non possiamo più stare insieme. Perché? È per via del mio lavoro. Sei disoccupato? Sì, e che è un lavoro particolare. E quale sarebbe questo lavoro? Il Power Ranger. Questa è la scusa più patetica che io abbia mai sentito per lasciare una ragazza! Ah sì? Vai, tirannosauro! Oh mio Dio! Allora non mentivi. Jacopo, dobbiamo svolgere una missione delicatissima. Dovvero? Salvare Bustor Sizio. Dagli ausiliari del traffico. E dalle vecchiette in coda alle poste. Dai, non lo voglio fare! Amore, vedrai, ti piacerà. E poi vedremo quanto sono affini i nostri spiriti. Ma io non ho bisogno di una maga per saperlo. Guarda che non è una maga. E poi ha un sacco di recensioni positive. Ok, entriamo! Ma che bella ragazza! Che bello spirito! Grazie! Ma chi è successo? Grazie! Ma lei quindi legge le carte? No, cara. Io leggo i prosciutti. I prosciutti? Oh, cosa vedo? Cosa vedo? Cosa vedo? San Daniele mi rivela che ti aspetta un grande stile. Che destino? Fedes lascerà la Ferragni per mettersi con te. Oddio! Ma prima tu devi lasciare la palla. La palla? Lui! Lascia lui! Ma io l'amo! Senza offesa, eh! Ma Fedes è Fedes. Ora va! E non vuoi darti indietro. Vado subito! No, ma amore! Amore, ma dove vai? Amore, io ti amo! Ombre, grazie mille, ha funzionato. Che grazie, grazie. Sono 300 euro. Come 300 euro? In nero, 2,90. Mi dispiace, Jacopo. È finita. Cosa? Ma niente paura. Non soffrirai e mi dimenticherai immediatamente. Sì, e come? Ho fatto una ricerca su app e siti d'incontro. E tada! Ti ho trovato una nuova fidanzata. Ma per chi mi hai preso per un porco? Non è che se mi dà il contentino allora è tutto posto. E poi non sono il genere di persona che ti rimpiazzerebbe in un modo così squalido. Hai capito? Esmeralda! È la Madonna! Sposiamoci! Porco schifoso! Dove è subito qui! Tisana, tisana, tisana Sei meglio della marijuana Tisana, tisana, tisana Più calda di una brasiliana Tisana, tisana, tisana Stasera io me ne sto a casa Tisana, tisana, tisana E sto sul divano in pigiama Tisana, tisana, tisana Tisana, tisana Tisana, tisana E io non si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.